Siamo con Joan Voigtman, se devi descrivere questa serie con un'altra parola, cosa sarebbe? Un dolore, era incredibilmente difficile, Virtus aveva una buona serie, avevo scoperto tutto il tempo, il home game ci salvò, i fan ci salvò, e in fine era incredibile. Cosa ti porti nel tuo cuore della season in Milano? È stata una buona season, una buona season, molti obiettivi che avevamo avvicinato, e ora, in questo modo, è incredibile. Grazie mille.